Siamo con Rosario Pingaro, presidente di Convergenze S.p.A. per presentare un progetto molto importante ed innovativo, la Convergenze Academy. E allora vogliamo spiegare ai telespettatori di Cilento Channel in cosa consiste questo ambizioso progetto che vedrà coinvolti tanti giovani del territorio del Cilento, perché è anche un progetto patrocinato dal Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Viano e dal Burni. Sì, speriamo che sia un progetto di successo. Noi stiamo sperimentando qualche cosa di nuovo in Convergenze che non abbiamo mai fatto, però in linea con quello che è il nostro DNA di società Benefit, quindi che ha voglia di far crescere il territorio. E qual è questo progetto? Quello di riuscire a creare un layer di formazione aggiuntivo, oltre quello che la scuola superiore riesce a garantire ai nostri ragazzi che si avvicinano alla tecnica della programmazione per poterli avvicinare al mondo del lavoro. Ecco, questo perché abbiamo difficoltà a trovare questo tipo di mano d'opera specializzata e quindi cerchiamo di rendere il mercato del lavoro un po' più effervescente da questo punto di vista. Il progetto ha avuto una gestazione particolarmente lunga, perché in realtà abbiamo comprato prima l'immobile, l'abbiamo ristrutturato, poi abbiamo fatto un contesto interno per capire nell'immobile quali attività volevamo realizzare. Alla fine è emersa questa come idea brillante per riuscire da un lato a occupare una nostra infrastruttura in maniera opportuna ed efficace, efficiente, e poi qualcosa che non fosse esclusivamente business, ma che potesse essere, indipendentemente poi dal posto di lavoro in convergenza, un motore di sviluppo sociale. Ecco, quindi abbiamo lavorato poi per definire anche un perimetro, perché non potevamo aprire all'intera regione o all'intera provincia, quindi abbiamo ritagliato il territorio a quello praticamente coincidente con il Parco del Cilento che abbiamo cercato di coinvolgere. E devo dire che il Presidente e il Direttore sono stati estremamente sensibili a questo tipo di iniziativa, hanno dato anche un supporto economico per facilitare gli spostamenti, anche perché la struttura è a Trentinara, quindi ci saranno delle navette quotidiane che viaggeranno da Capaccio, dalla stazione ferroviaria di Capaccio, da Convergenze fino a Trentinara in ambo le direzioni per poter facilitare gli spostamenti dei ragazzi. Trentinara perché la nostra mission di infrastrutturare le aree interne non si ferma solo alla fibra ottica, ma anche quest'immobile che abbiamo acquistato e ristrutturato è in un'area interna. Ecco, quindi cerchiamo di fare in modo che a 360 gradi la nostra attività aziendale riporti vivacità ai contesti anche non di primo piano dei nostri territori. Garantiamo anche un rimborso spese se i ragazzi parteciperanno all'80% delle ore di lezione. L'idea del tipo di formazione in generale dell'Academy è di un nostro dipendente, non è un'idea mia, ma di Fabio Palladino, che è una delle colonne della nostra azienda, e lui ha dato l'imprinting del tipo di formazione, quindi molto anglosassone, molto americana, al stile alla Google per migliorare la capacità di problem solving, di self learning di questi ragazzi. Quindi sono sicuro che l'esperienza sarà buona e che lascerà un buon imprinting ai ragazzi e speriamo poi anche alla fine di trovare qualche buon talento da inserire nella nostra compagine, nel nostro team. Quando è prevista l'apertura di questa Accademia? Guarda, le iscrizioni già ci sarà una fase di registrazione, il sito è già online, quindi invito tutti quanti gli interessati a poter andare a registrarsi. Non c'è bisogno di nessuna formazione specifica, ma ci aspettiamo che i ragazzi mastichino di programmazione, almeno a livello scolastico, perché ci sarà poi una fase di selezione, logicamente. E la fase di selezione che si dovrebbe comunque concludere tra agosto e gli inizi di settembre, per poi partire con le lezioni a ottobre. La durata del corso sarà di tre mesi, quindi contiamo che a cavallo del 2022-2023 termineremmo il ciclo formativo che sarà fatto da docenti interni, docenti esterni, con dei tutor aziendali, in qualche modo anche un modo per capire un po' più da vicino che cosa fa un'azienda come Convergenze che ha nel portafoglio prodotti una quantità abbastanza rilevante di soluzioni e tecnologie. Grazie e complimenti.